La squadra non mi ha detto di andare via, la squadra mi ha chiesto solo di rimanere con la squadra, anche io mi piace, sono molto bene qua e volevo ancora dare di più a questa domanda. Già quest'anno siamo tanti, siamo tanti nel ruolo, c'è dell'ultimo acquisto anche e c'è un nuovo allenatore che gioca in modo diverso della scorsa stagione, dobbiamo capire quello che voglio per fare molto bene.